Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Allora, sono incazzato come una bestia, con tutta la catena di GameStop. Allora, adesso vi spiego cosa è successo. Come già saprete, a settembre, uscirà il gioco top del top, cioè, Grand Theft Auto V. Essendo un gioco della Madonna, avevo deciso di comprarmi la Collector Edition, allora vado dal mio rivenditore di fiducia, con in tasca i big money, e gli chiedo di poter prenotare una copia della Collector Edition, di Grand Theft Auto V. Incredibilmente, mi dice che la versione Collector, è disponibile solo su prenotazione online, sul sito. Ma che cazzo? Allora gli chiedo se, almeno, posso prenotare la Special Edition, in negozio. Manco po' cazzo. Pure questa versione, è prenotabile solo online. Ma che stronzata è mai questa? Voglio capire solamente il perché non accettate le prenotazioni in negozio. Non so se lo sapete, ma c'è molta gente, che per vari motivi, preferisce acquistare in negozio, e questa mossa, è davvero deludente. Allora perché li tenete aperti i negozi, se non si può prenotare una sega di niente? E che cazzo? Allora, voglio lanciare un appello alla GameStop, in nome, di tutti quei ragazzi, che vogliono acquistare le edizioni speciali in negozio. Per favore, rendete disponibili le prenotazioni delle varie edizioni speciali, anche in negozio. Ovviamente, rendetele disponibili adesso, e non, tra due mesi, quando rimarranno solo dieci copie in tutta Italia. Spero che questo video, possa arrivare ai vertici di GameStop, e soprattutto, conto su di voi, cari merdoni, perché lo spammiate ovunque, anche sulla loro pagina Facebook. Sono un cliente abituale di GameStop, quindi, ho tutto il diritto di incazzarmi come una biscia. Sì, lo so, molti di voi mi stanno consigliando, di prenderlo su Amazon, appena sarà disponibile. Ma il senso di questo video, è proprio quello di far capire a quelli di GameStop, che molti di noi, preferiscono bucare in negozio al day one, e comprarlo direttamente lì. Concludo qua il video, altrimenti, diventa troppo lungo. Ora vi saluto, perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto. P.S. Se vi fanno schifo i miei 139 big money, lo comprerò da altre parti. Non fate i budelloni, ok? Mettete i pre-order, anche nei negozi. Fate i bravi.